Ciao amici cari, sono compagnia con mio papà Allora papà, facendo questo effetto perché è incredibile, anche voi amici cari tu da Expo Clirista vedi che uso un mazzo regolarissimo carte cinesi tutte le carte diverse carte cinesi normalissime con dorsi non segnati né carte corte, né carte lunghe né doppie facce, un mazzo da casa di una persona normalissima, ok? Questo ci tengo ragazzi perché vedrete un bel effetto tu stesso prendi le carte e mescola fin quando sei sazio ragazzi qua ci tengo, spettatore prende le carte le mescola lui stesso, quindi nessuno può sapere neanche l'universo, l'ordine di ogni singola carta, qui ci tengo da un mazzo regolare, ok? Ecco qua, quindi sta mescolando taglia e guarda una carta dove vuoi tu, dove vuoi? sta guardando una carta, chiudi tutto non lo sapere niente, io non posso sapere niente ragazzi, niente non c'è segni, non c'è niente perfetto, un mazzo regolare ragazzi ora, io voglio provare a indovinare la tua carta, però sinceramente è come dire un avevo in un pagliaio ti ricordo, no? so che è rossa però, vero? sì, so che è rossa però indovinare la carta è difficilissimo però voglio provare una cosa la tua carta era alta? una carta alta? no, no non era alta, vabbè comunque proviamo se l'ho messa sono felice per la prima volta il mazzo è qua, ok? e lo lascio qua e non lo toccherò più che carta stai pensando? 4 di cuore tu stesso gira la carta e 6-4 di cuore è un miracolo 4 di cuore effettivamente pare impossibile e dato che è sembra veramente impossibile tu stesso ancora ora mescola le carte per i precisiatori non esiste segnali io non posso sapere niente cioè realmente sta mescolando un mazzo di carta, ok? no, ragazzi ci tengo questo perché siamo in diretta quindi giusto cari amici che vi dico le cose come mescolato, ok? taglia dove vuoi guarda la carta dove vuoi fatto? sì, apposto chiudi tutto? sì fatto? sì io posso mai sapere? no sei d'accordo che tutto è perso? è dentro, perso ok, però ci sarà sicuramente da qualche parte, giusto? sì allora qui siamo sul difficile perché voglio provare una cosa veramente difficile comunque è di cuori la tua carta giusto? no no, siamo di cuori, no? no ok io provo per la prima volta tu stai pensando a una carta sì che carta stai pensando? sei di quadri se qui ci fosse il sei di quadri è un miracolo gira sei di quadri pare impossibile per così sono dei nostri amici un mazzo che ci tengo che tu controlli esami tutto se segnati cose no, no, no questo è un effetto che io reputo veramente tosto vero? cioè io anzio il mazzo tu guardi la carta io guardo io guardo non guardo niente tu guardo io guardo la carta e poi la chiudo quindi tu non sei accaltezzato dopo di che come fai a guardare la carta? fai un possibile c'è un mince c'è un mio papà